ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornati a tutti quanti e benvenuti ai nuovi vi invito a iscrivervi a chi non l'avesse ancora fatto e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche di questo canale cliccando poi su tutte allora oggi siccome me lo chiedete in tanti e vi piace molto san gervais vedete già qua sopra ho due libri che vi consiglio in modo particolare ma ce ne sono anche altri buoni però io devo dire che questi l'ho trovati veramente stupendi uno è questo qua i discorsi dell'io sono il libro di san germain ok l'edizione è le sono le editrice italica questa appunto una ristampa collezione metafisica san germain ci sono tantissimi spunti proprio anche dell'io sono altri capitoli dedicati a poi lo andremo a fare in un altro video la costruzione del cerchio cintura elettronica che ci dice san germain che proprio un cerchio di protezione attorno sarebbe però da farci più una costruzione personalizzata diciamo più come meditazione magari la mettiamo sotto forma di meditazione personale ognuno se la costruisce questa cintura un cerchio elettronico come vuole il secondo che è più di edizione intascabile dove prendo anche io i decreti che poi dico a voi è questo qua sempre loro della collezione metafisica sempre editrice italica decreti del maestro san germain ci sono diversi decreti per tutte le questioni della vita la legge la salute il lavoro l'amore insomma incondizionato chiaramente l'amore di coppia ragazzi allora per carità non è che ci sia niente l'amore su questa terra esiste bello va vissuto per esempio un amore tridimensionale va bene noi parliamo quando parlo di amore in questi argomenti non parlo dell'amore ragazzi di coppia di casa del matrimonio io parlo di amore incondizionato che è un amore che si raggiunge dopo tantissimo lavoro e poi neanche si è sicuri di raggiungerlo insomma perché comunque è veramente un amore che va dalla quarta quinta dimensione in su qui è tanto difficile da raggiungere come risultato però comunque parliamo di amore proprio incondizionato senza giudizio va bene alcuno che è tipico proprio degli esseri ascesi maestri ascesi esseri di luce eccetera oggi ok quindi questi sono i due libri che vi consiglio perché mi chiedete sempre consigli di libri consigli di meditazioni eccetera questi sono quelli due particolarmente di san germain che mi interessano oggi farvi vedere da questo libro qua faremo dei discorsi dell'io sono faremo poi una sicuramente ma adesso vediamo il tempo ne faremo anche due se vediamo le meditazioni sicuramente la cintura un cerchio elettronico perché comunque è di una protezione fantastica allora questo lo togliamo perché oggi vi parlo più che altro del diversi decreti vi voglio dare oggi di san germain diversi decreti che riguardano proprio la salute attenzione quando parlo di salute vi invito andare dal medico questi non sono decreti che sostituiscono niente va bene questi sono decreti che rafforzano la vostra psiche la vostra mente ok il vostro subconscio il vostro inconscio tutto quanto quello che a volte non è di vostro diciamo di vostra portata non riuscite a controllare magari avete dei pensieri ossessivi ripetitivi e sappiamo molto abbiamo parlato abbiamo sentito tutti parlare delle malattie psicosomatiche quindi sappiamo che vanno ad influire certi pensieri ripetuti è chiaramente non è che sono una volta pensa delle cose e poi queste accadono subito però ripetutamente con gli anni ci si ammala molto anche perché si soffre di un certo come dire depressione o comunque di schemi che abbiamo creato noi con la nostra mente ci vanno a distruggere ragazzi gli organi comunque sia devono avere energia ok come i chakra che girano nella spirale giusta devono essere aperti e girare ok ci deve essere questa energia che gira così succede anche per gli organi quando gli organi si ammalano che questo lo possiamo fare anche con la fiamma viola cercare di ripurificare comunque gli organi quello che vogliamo fare qua è una cosa olistica ragazzi non può sostituire il medico ok quindi mi raccomando la prima cosa in caso di disturbi dolori e varie cose andare sicuramente dal medico per vedere che cos'è poi voi che cosa potete fare però potete aiutare la guarigione la potete aiutare ma dovete sempre partire da una base ufficiale da una base medica ok quindi mi raccomando prima è sempre il medico secondo però fate qualcosa anche voi non vi limitate solo a prendere le medicine le pasticche bene dovete anche correggere quel tipo di atteggiamento e schema mentale che ha procurato ok una malattia va bene allora qua andiamo quindi a vedere come possiamo aiutare il nostro il nostro diciamo corpo questo corpo fisico che abbiamo in questa terra a avere meno disturbi possibili ok dopo chiaramente poi inizio è però come ultima cosa voglio dire che molte cose ragazze sono anche karmiche va bene morti improvvise di persone vicino a noi c'è la nostra vita la decidiamo esattamente quando rinascere quando morire ok non sono disgrazie sono comunque esperienze che abbiamo deciso noi ok voglio vivere 80 anni voglio vivere 100 anni voglio vivere che ne so 15 anni purtroppo ok quindi tolto quello ricordatevi come per i video delle parole magiche cosa scrivo nelle descrizioni leggete le descrizioni dei video perché sono una che spiega ragazzi nelle descrizioni mie trovate tanto cosa dico in quei video e vale anche per questo che se è da piano divino ok e non va in contrasto con comunque un certo percorso karmico lezione karmica che abbiamo scelto di fare ok non è che se non si annulla un qualcosa è perché non deve essere annullato qui proviamo a migliorare perché magari non è un discorso karmico non è un discorso di lezione che abbiamo da fare quindi proviamoci comunque a migliorare questo corpo a farci stare meglio proviamo sempre in aggiunta alla medicina ufficiale chiaramente non è un sostituto della medicina ufficiale ma è un contributo che possiamo dare noi se non lede ovviamente il nostro percorso come anime su questa terra quindi andiamo poi a proposito mettiamo anche un oracolo dei miei messaggi divini canalizzati per dopo vi faccio scegliere una carta noi cominciamo e procediamo con di sottofondo un 741 hertz che è una frequenza proprio che ripulisce e che rafforza il sistema immunitario la lasciamo in sottofondo fatelo anche voi questo tipo di lavoro perché le frequenze sono molto benefiche vanno ad agire proprio nel subconscio ci sono a voi sembra musica in realtà non è sono proprio delle vibrazioni fatte ad una certa frequenza va bene quindi questa musica che abbiamo sotto ci aiuta in background senza bisogno di porre attenzione quindi la lasciamo in sottofondo a lavorare da sola mentre noi recitiamo va bene chi non gradisce la velocità delle mie recitazioni o ognuno chiaramente giustamente ai suoi tempi poi se le fa da solo va bene chi vuole viene dietro a me perché non posso rallentare troppo ragazzi devo comunque avere una certa energia in quello che dico una certa se no dopo sarei non sarei più naturale quindi chi riesce a seguirmi bene chi non riesce a seguire poi magari se le va a scrivere se le va a vedere in descrizione se le fa con calma quando vuole non c'è nessun problema io però ve le devo illustrare ve le devo dire ok quindi o anche solo le ascoltate comunque già anche solo ascoltarle dalla mia voce vi provoca comunque una certa energia in arrivo positiva per voi perché comunque non può essere uguale in una casa dove si sentono certe parole certe cose in confronto a una casa dove queste parole non ci sono quindi magari volete ascoltare il video in alto volume e lo mettete va bene con la mia voce sotto che dice queste cose ha comunque energeticamente un'influenza positiva è chiaro però è sempre meglio che la fai pure tu con la tua voce con la tua intenzione con la tua energia va bene allora ho messo già la piuma ovviamente viola ragazzi bellissima la mettiamo qua andiamo con io mi sono segnata quelle più importanti ma non perché le altre non sono importanti ma quelle più adatte ok al mio pubblico qui si chiama vedete che sono tutte numerate sono e questa fa parte appunto della sezione 10 che parla della salute e verità poi vi faccio vedere così velocemente vedete la 11 provvidenza e pace ne abbiamo diverse la trasmutazione andiamo anche indietro c'erano anche ecco amore ecco poi abbiamo l'opulenza l'illuminazione la protezione faremo anche questo è faremo anche sulla protezione va comunque un argomento che interessa molti ne abbiamo anche bisogno partiamo con cercare di migliorare questo corpo andiamo quindi questi sono i decreti che potete recitare per migliorare la vostra salute e il vostro comunque stato fisico in generale sentirvi meglio io sono la perfetta attività di ogni organo e cellula del mio corpo io sono la perfetta salute manifestata adesso in ogni organo del mio corpo io sono la perfetta attività intelligente in questo corpo io sono la presenza della salute perfetta parlo a te corpo fisico e a voi organi assumete immediatamente un'attività perfetta e normale e fate sì che si mantenga lavoratori intelligenti del corpo mettetevi all'opera e adoperatevi affinché ogni particella di questa struttura sia rimpiazzata con la perfezione di dio sto parlando a voi lavoratori coscienti del processo costruttivo fate che la perfezione sia creata e mantenuta in tutte le funzioni di tutti i miei corpi supremo essere maestro in me comanda e dirigi i piccoli lavoratori interni della mia mente e del mio corpo e veglia affinché producano unicamente la perfezione in ogni organo e in ogni parte vigila perché questo costante processo costruttivo sia sostenuto e mantenuto continuamente dio mio magna presenza io sono veglia perché l'energia del mio corpo sia equilibrata perfettamente in tutta la mente e in tutto il corpo io sono in me è la forza e la guarigione autosostenuta che si manifesta nella mia mente e nel mio corpo che potenza ragazzi potenza potenza i decreti possono essere fatti tante volte quante volte volete quante volte ve lo sentite non c'è un quante volte al giorno andrebbe bene tutti i giorni io li faccio tutti i giorni i decreti ne faccio tantissimi di decreti anche insieme se prima avete fatto che ne so il decreto dei voti o dei blocchi carmici o il decreto del di san michele arcangelo poi fate il decreto per la salute poi fate il decreto del denaro va bene non c'è un limite a questo basta che ognuno lo cominciate lo finite fate qualche respiro e ne cominciate un altro con molta fede ragazzi la voce è energia è vibrazione va bene non potete mentire ai maestri scesi agli esseri di luce alle energie si sente se ci siete o non ci siete ok quindi tanto per recitare la canzone non si fanno queste cose si fanno con la serietà la convinzione la fede va bene quindi vi ricordo è questo libro è fantastico ragazzi fantastico bellissimo ce ne sono tanti questa sarebbe come una specie di bibbia che uno volendo la apre no e poi trova qui ne faremo altri ragazzi ne faremo altri guardate un po per l'ascensione pure io sono l'ascensione di questo corpo fisico adesso questa mi è venuta ve la devo dire c'è niente da fare questa io per esempio per me è pane quotidiano questa cosa qua che fate che diventa anche il vostro perché è la ripetizione cos'è che fa spesse volte ammalare sia la mente che il corpo è il ripetere il ripetere degli schemi degli atteggiamenti delle cose che non vanno pensieri negativi non è che un pensiero negativo va a rovinarti è una serie di pensieri negativi ripetuti nel tempo che va a rovinare è la durata delle cose quindi facciamo che ci siano anche delle durate positive di cose positive le rimpiazziamo ok a quelle negative rimpiazziamo cerchiamo di ripulire questa mente sapete come fanno i monaci tibetani con i quali ho studiato e studio molto ancora ho degli amici tra i monaci tibetani tra cui uno in particolare che è proprio il mio maestro è stato nella fine negli anni 90 che ci diceva sempre che i mantra devono rimpiazzare qualsiasi tipo di pensiero ovviamente non è che non si può pensare più a niente è chiaro no perché dobbiamo vivere comunque sia fare le cose per forza quando ci alziamo la mattina fino alla sera però cercare di non avere quel chiacchiericcio mentale questo è tipico proprio delle diciamo discipline orientali specialmente dei tibetani di questo questa cosa qua ripetuta ti cancella qualsiasi altra cosa come la cancella la fiamma viola la fiamma viola trasmuntatrice chi non l'ha visto vada a vedere il video del decreto io sono e della fiamma viola l'invocazione alla fiamma viola che si chiama prima la fiamma viola e poi si fa il decreto io sono stra potente va bene non mi stancherò mai di dirvelo chi ancora non ci crede mi pare strano chi l'ha fatto deve per forza sentire una vibrazione che non può essere quella che aveva prima ok quindi mi raccomando chi non l'ha visto lo faccia utilizzi anche la visualizzazione della fiamma viola che va a riqualificare tutte le cellule appunto come dice il maestro saint germain squalificate cioè sono le cellule squalificate che fanno ammalare poi l'organo va bene quindi ripeto se non è in contrasto con un discorso d'anima già detto già visto già deciso prima di venire in terra sicuramente starai meglio ok sempre dopo essere andato dal medico però perché queste sono aggiunte aggiunte ok però a livello mentale soprattutto ragazzi fanno tanto fanno veramente tanto e se andiamo ad agire sul mentale vedremo dei miglioramenti poi anche a livello fisico però mi raccomando se state male dovete andare dal medico ci vado anch'io dal medico mica sono stupida e perché credo a tutto questo non vado dai medici io dai medici ci vado e ci dovete andare poi chiaramente faccio tanto di quel lavoro mentale che tante cose ormai ok hanno funzionato questo voglio dire però accertato che non ci sia una patologia si può fare assolutamente anche questo allora andiamo adesso con i nostri messaggi vediamo che messaggino c'è per te lasciamo questo amatissimo saint germain maestro lo lasciamo qua andiamo un po a vedere ragazzi il prossimo mazzo mi sta venendo un'intuizione lo faccio tutto viola che dite voi guardate che viola io sono incantata pure lo smalto guardate che roba io mi sa che faccio siccome sto avendo un'idea anche di altre cose per quanto riguarda i mazzi che hanno fatti tre anzi ringrazio tutti quelli che l'hanno fatti ne voglio fare un tutto viola ragazzi vediamo un po cosa mi viene in mente costamente mia allora vediamo un po che messaggio c'è perché è venuto a sentire oggi qua il maestro saint germain o comunque sia schiere angelico o essere di luce che possono dare un messaggio adesso a chi ascolta che qui certamente non per caso ma per sincronicità divina perfetta vediamo facciamo tre carte messaggio per chi sceglie la 1 messaggio per chi sceglie la 2 messaggio per chi sceglie la 3 sceglie 1 2 o 3 1 2 o 3 chiaramente ragazzi il settimo raggio fiamma viola va d'accordo con l'ametista è altra pietra sull'illa viola allora vediamo iniziamo subito andiamo facciamo chi ha scelto la stesa 1 vediamo che messaggio c'è per te che devi ascoltare proprio ora sta per arrivarti del denaro 8 8 8 buon auspicio bene spero che qua qualcuno aspettava vivamente tra l'altro abbiamo il lilla anche qua come vedete è un mio ormai difetto di fare le cose così che dirti più chiaro di così qua ci sono questioni materiali tridimensionali da risolvere ci servono i soldi quindi qui c'è un buon auspicio questa è carta di fortuna buon auspicio 8 8 8 sta per arrivarti del denaro quindi ci sono del diciamo un'energia perché il denaro è un'energia da sbloccare scusate ecco perché invito sempre molto a lavorare proprio sui decreti sulle recitazioni proprio perché perché c'è questa energia del denaro che va sbloccata ok non è che voi non vi si ama l'universo non vi ama va sbloccato il denaro va bene quindi mi raccomando qua chi sta aspettando arriva ok andiamo avanti con la carta 2 se stai ascoltando questo messaggio non è un caso 2 224 244 metti in pratica ciò che ti viene detto adesso perfetto oggi la voce proprio niente che devi mettere in pratica nel modo più assoluto quello che ti viene detto adesso perché non è un caso che sei qui come dicevo prima cos'è che sei venuto a sentire qui adesso qui e ora perché sei qua 2 il 22 il 42 il 44 sono tutti i numeri il 2 e il 4 no sono tutti i numeri che ti possono significare qualcosa se li vedi sappilo che è un messaggio per te e ti dicono ci siamo ci sono sono qua va bene stai andando verso la tua strada quindi questo è molto importante per chi ascolta quindi se sta ascoltando questo messaggio non è un caso perché probabilmente dovevi sapere di questo dovevi sapere dei decreti dovevi sapere quello che ti ho detto io non lo so però qua non è un caso quindi metti in pratica questa è una carta è fantastica perché metti in pratica quindi qua chi ha scelto la 2 le deve fare c'è niente da fare ragazzi le dovete fare a maggior ragione che hai scelto la carta 2 proprio ti servono proprio queste ok metti in pratica cioè falle bene adesso andiamo con la 3 lascia andare dedicati a qualcosa che ti piace rilassati 666 pensieri fuori equilibrio vai dentro di te quindi qua abbiamo da lasciare andare ottimo anche questi decreti qua rilassarsi lasciare andare dedicarsi a qualcosa che ti piace quindi andiamo via questi pensieri ossessivi perché sono fuori equilibrio abbiamo un po di instabilità di equilibrio per chi ha scelto la carta 3 e va riequilibrato chi meglio di lui chi meglio della fiamma viola del raggio viola può riequilibrare ok tutte queste cellule queste energie che hanno perso la loro rotazione naturale ok perché sono già perfette quando veniamo al mondo poi chiaramente si squalificano cominciano a girare permearsi ok di energia negativa o comunque di squilibrio va bene ma è normale non è che c'è un essere perfetto cioè se non era perfetto non stavamo qua giù stavamo lassù ok quindi niente di male in questo non sei inferiore a qualcun altro proprio per niente ci sono dei momenti in cui si vacilla in cui si cade in cui si tentenna in cui si va in una bassa energia non importa non importa ok all'universo alle energie superiori non interessa non è che sei più bravo più brava quell'altro ha fatto no ognuno si trova esattamente dove deve essere a livello energetico a livello carmico a livello di scelte fatte dall'anima a livello di lezione da imparare su questa terra non c'è niente di sbagliato anche se soffri da tanto e ti sei stufata e ti sei stufato mi dispiace ma la crescita personale fa parte anche di questo assimilare il concetto che così deve essere nonostante la sofferenza ebbene sì questo è quello che devi passare in questo momento quindi non ti mettere conto come un muro fai fluire quello che deve fluire se ti metti lì col muso duro sbatti forte il cambiamento anche la sofferenza ti devono diventa trasparente ok diventa trasparente fatti permeare fatti passare queste energie di sofferenza di cambiamento quello che è perché così riesci poi a lasciarle andare come ci dice qua lascia andare va bene qua c'è da lasciare andare non ti opporre sai come no mettiti a braccia per apri le braccia mettiti a quattro di spade di io io qua succeda quel che deve succedere ok c'è proprio ti devi far trapassare da tutto in modo che poi sei una persona nuova ok mi raccomando è qua c'è da rilassarsi ci sono dei pensieri fuori equilibrio squilibrati energie basse quindi diventare dentro di te a ritrovare questo equilibrio la recitazione dei decreti è una cosa fantastica per ritrovare l'equilibrio e per re diciamo alzare ancora l'energia e riportarla un po livelli un pochino più alti e san germain particolarmente il raggio viola la fiamma viola riesce a farlo molto bene però ragazzi non basta oggi e poi fra un mese questo deve essere un lavoro deve essere un impegno perché l'impegno viene premiato deve essere una pratica quotidiana scegliete i decreti sul mio canale ce ne sono tanti e ce ne saranno ancora ne metterò tanti scegliete quello che più vi chiama perché come per la cristalloterapia e la pietra che ti chiama perché è la pietra di cui hai bisogno la stessa cosa vale anche per il decreto tutto ciò che è sacro che è superiore e che è di un'altra dimensione ok in qualche modo si fa accorgere no ti dice sono io prendi me ad esempio la pietra no la stessa cosa il decreto ok no recita questo perché oggi ti faccio vedere per sincronicità divina questo video di questa qua che parla su sto canale ok è e quindi prendi questo messaggio perché è un messaggio che ti sta dando un'altra dimensione ok mi raccomando anche stesa 2 non è un messaggio a caso questo ti dice di mettere in pratica stesa 1 mi raccomando il denaro sta per arrivare buono auspicio per te quindi vai a risolvere anche delle cose che dirvi ragazzi io vi ringrazio tutti quanti di essere stati con me spero vi siano piaciuti e vi piacciono i decreti che faccio vi sia soprattutto anche questo qua della salute mi raccomando andate dal medico se non vi sentite bene facciamo le persone seri veramente ok prima il medico poi tutto ciò che è spirituale olistico in aggiunta e a migliorare se non anche a velocizzare ok come per esempio con il reiki ma anche questi tipi di pratiche qua velocizzano è quindi se state facendo anche qualche cura siete in cura continuate la cura e poi ci mettete in aggiunta un lavoro grandioso spirituale e vedrete che anche i tempi si accelerano va bene quindi mi raccomando decreti cose varie guardateli vedete quelli che vi piacciono quelli che vi attirano se continuate a seguirmi perché comincieremo anche la fase delle meditazioni con me quindi piano piano faremo tutto per garantire una buona energia a voi questo canale è permeato solo di questo non metterò video tutti i giorni come vedete che non sto facendo perché appunto qualcuno mi ha chiesto anche nei commenti questo canale fa dei video tipo tre volte a settimana va bene perché comunque ci vuole lo stop ci vuole la pausa non si può garantire una buona energia e attenzione a chi mette video o una volta al giorno due volte al giorno perché non è possibile che sia in un'energia pulita ci vuole lo stacco il taglio respiro rifaccio va bene ve lo dico io perché sono tanti anni che lavoro su questa cosa e non è possibile avere un'energia pulita se si sta sempre qui a registrare a impegnarsi sempre in qualcosa bisogna anche staccare e poi si riprende va bene quindi vedete che piano piano si fa tutto ok con un'energia perfetta come molti di voi poi che parlano con me percepiscono e mi dicono che sentite dal mio canale io sono felicissima che sentite questa bella energia su questo canale e veramente sono felicissima perché mi date anche lo spunto mi spronate anche a lavorare ancora e a sapere che il mio lavoro è gradito quindi sono contentissima di mettervi le cose per la vostra crescita personale mi raccomando allora che dirvi lasciatemi un like al video vedetevi anche i lavori sulle geometrie sacre ok tipo la genesa la pentasfera fate voi vedete voi che cosa vi sentite più di fare vi aspetto presto in un prossimo interattivo chi vuole parlare con me vede anche sia in sovraimpressione ma anche nell'info box comunque tutte le informazioni comprese quelle di ogni video va bene quindi qui i decreti li trovate poi anche nell'info box vi mando un grandissimo abbraccio a tutti quanti e vi ringrazio ciao a tutti